La cronaca ci porta adesso a Bologna dove questa mattina dopo due anni di indagini la Guardia di Finanza ha smantellato un'organizzazione criminale legata all'andrangheta reggina e crotonese. 41 le ordinanze di custodia cautelare in carcere destinate a italiani e stranieri. L'organizzazione infatti aveva affidato il riciclaggio dei proventi del traffico internazionale di stupefacenti a un gruppo di cittadini di nazionalità cinese. Lendrine e Calabresi acquistavano e importavano droga dai cartelli sudamericani per centinaia di chili al mese. Le sostanze stupefacenti arrivavano nei porti dell'Europa settentrionale, Rotterdam e Danversa in particolare, ed erano poi distribuite in tutta Europa. L'attività ha fruttato all'organizzazione decine di milioni di euro.